E' in Italia! What? I don't understand! Please, speak more high! Do you listen me? A me Roby... Non mi da fastidio nessuno. Ma ti pare... Allò? Guarda, l'italiano dicevo di fare... Ma sei italiano? Ma porca miseria! Pensavo che eri inglese! Eh, ma non ho capito, scusami! Quanti anni hai? Sette! Sette! No, calmo! Gente! Non morire! Non morire mio piccolo italiano! Sto arrivando! Sei ma... Li hai ammazzati? Sì! Bravo! Ho uno solo, uno solo! Come ti chiami? Roberto! Quanti anni hai che non ho capito? Ruben! 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 Quanti anni hai? Quanti? Quanti? Sette anni! Sette anni! Ok, Ruben! Noi? Beh, come hai detto? No! Ok! Lei ha sette anni, non può dire le parolacce! Non dica le parolacce, Ruben! Per favore! Si... Si... Si dia una... Una calmata, per favore! Se vuoi, vuoi un poppa del nonno verde? Un poppa del nonno verde ce l'ho, ti ringrazio! Mi piace di più però quello che stai usando adesso! Si! Molto grazie! Ok, tieni questo tu invece in cambio? Si! Ok, poi vieni qua e ci facciamo il falò! Grazie Danilus! Scusami alle bosca! Vai, sparati il falò prepotente! Da... Da quanto gio... Dimmi, dimmi, dimmi! Ok, da quanto giochi a Fortnite? Da... Da un anno! Da un anno! Ok! Vai! Money, money, money! Grazie... Mi... No, chi è? Aspetta, non ho visto chi è... Grazie Danilus! Ma... Tu hai un canale YouTube? No! Sì, io ce l'avevo però ho fatto un video e poi l'ho scocciato e l'avevo in parecchio! E l'hai lasciato perdere! Ce l'avevi tanti anni fa ce l'avevi il canale! Un anno fa! Un anno fa! Un anno fa! Quando avevi visto gli anni! Ok! Perché ti sei scocciato? Ehm... Così! Perché è faticoso! Ehm... E' certo! Devi starci dietro! Devi fare... Lo so! Lo so! Devi fare i video! Tipo 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 tipo... Devi fare i v... Fai... Eh... Fai video di un'ora eh! No! Fai video di un'ora eh! Fai video di un'ora mi sembra pesante! Fai... Fai video di dieci minuti! Scusami alle bosca! Fai video! Devi fare i video... Devi fare i video di dieci minuti! Se fai video di un'ora la gente... Si stanca! Ehm... Altri... Youtube fanno questo tipo... Alcuni fanno... Anche video di tre ore! Youtuber che fanno video di tre ore? Raccontano la divina commedia! Raccontano! Raccontano! Tu hai letto la divina commedia? o non l'hai letta Ok ti dico ti dico l'inizio e tu devi completare la frase ok Sei pronto quello che ti viene in mente quello che ti viene in mente Ok sei pronto nel mezzo del cammin di nostra vita La divina commedia è importante la prima cosa che ti viene in mente ti dico se è giusto te lo ridico nel mezzo del cammin di nostra vita La cacca si avvicina la cacca si avvicina se non è proprio così però ci avviciniamo ci avviciniamo Ok questo è il nuovo intro della divina commedia ma però non ci sei andato lontano è bravo Avanti così Viene andare a fare la cacca Sentono a capito devo fare la cacca ho detto no che magari poi mi lascia qua da solo e cosa faccio io Non ti scappa adesso Ok tienila per favore sono cosa faccio Da dove abiti di dove di dove sei di napoli Infatti ero indeciso se pensare seri di napoli oppure di torino Paroi però è napoli vero È napoli è napoli perché mi hai chiuso Ti ho fatto qualcosa di male ti ho fatto Ah stava la cassa stava la cassa Ok Ho dimenticato ho perso il mio fucile a pompa Eh non lo so l'ho perso Cosa faccio adesso? Ok arrivo subito grazie Ma guarda che sei proprio gentile aspetta che arrivo Ok Grazie mille andiamo avanti Io invece ho nove anni Però abito a Milano Ho detto che io scusami io ho nove anni però abito a Milano Conosci Milano? Ti piace di più Milano o Napoli? Diciamo Napoli Diciamo Napoli giustamente Perché però giochi a tuo favore Se hai nato a Napoli è più bella Napoli Certo Andiamo No Devi parlare in questo modo Andiamo eh Andiamo a vincere Speriamo Eh dai speriamo di vincere Qual è la tua arma preferita? Ehm Mi fa proprio tenere Ho capito Allora se lo trovo te lo do a te Ok Oh che bello questo Lo prendo io? Ok andiamo andiamo Ok Grazie mille Tom Nato Frac Grazie mille grazie mille Allora guarda che siamo rimasti in 25 Non è live Cosa? Tu sei uno youtuber No 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 Cos'è youtube? No 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 Cos'è youtube? Tu sei youtuber? No Io penso che sia Ah già è vero mi hai detto L'hai fatto e poi hai smesso giusto? Ok No io non so cos'è youtube Ok Nooo Io sono su twitch Tu conosci twitch? No E come no scusami Allora hai lì il computer? Sì Ok allora vai www Vai vai Chiuditi qua un attimo Che ti saluto Che ti saluto Sette anni Chi è? Un bambino www Mi piaci tu Ma tu l'ultimo scherzo Su google Su google Dove ti pare? Dove ti pare? Aiuto No come aiuto www Aspetta aiuto perché Un secondo Cosa è successo? No Ok Sei caduto? Il filo So che ci sta Il filo su Sul gesti Il filo su Già Ok ok Quando sei pronto? www Ok Punto Ciao amici Eh lo sto Hai fatto il punto? Sì Ok T U Sì W I U Ok Ancora la T C E poi H Punto TV E poi apri Ciao ragazzi Hai aperto Lo vedi che è viola tipo Aspetta a me mi dice impossibile D'aggiungere il sito Hai fa Allora su google Scrivi twitch Che così da più fa Io sono andato su google Ok da google 3v 3v Punto Ma 3v Ma no vvv W W W Pia Niente Poi Fai niente Andiamo 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 Che non c'è più tempo Vai Togliti Mi sto togliendo Che faccio un po' Casino Oh Vogliamo sparare Ti piace vedere esplodere i benzinai Sì perché alcune volte un amico dice che alcune volte stanno delle persone dentro E magari muoiono Eh certo 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 Io non lo sapeva Ho sparato invece dai Non lo sapevo Stavo Un nemico là dentro Un nemico dentro Bello piccolino Un piccolino Scusami c'è Una mia amica che sta parlando No non sono una sua amica Gente andiamo Sono in due Che è successo Ti sparano da destra E tu devi di non spararti Perché ti sparano da destra Oh mi hanno preso Mi hanno preso Adesso Adesso Eh lo so adesso me li faccio shieldini Oh Ti hanno aiutato anche a te Ho fatto 100 Ho fatto 100 Ho fatto 100 A 7 anni 9 Andiamo 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 Bambina puoi non darmi fastidio Diamo andiamo scusami la mia amica mi dà fastidio Eh come sei cattivo Eh per favore bambina Non darmi fastidio Andiamo E tutto cattivo glielo dico al mio papà Eh per favore bambina per favore Andiamo Ma perché mi devi dare fastidio Mi dai gli shieldini Allora tu entra qua Vieni dentro E chiudi subito Ok Ok perfetto Perfetto Hai fatto bene Va bene anche così Chiudi Oh ma tu devi tirarti queste bende Ah c'hai il medikit Benissimo benissimo Prendo le bende vado avanti Sono a posto con le bende Ok Ti aiutavo ancora di più di me Tienili Tienili Oh ma c'è gente qua davanti Ma che cosa vogliono questi Uno è morto Ok l'ho finito Vai tranquillo Non morire Mi sparano dappertutto Ne è morto un altro Vai 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 Mi devi dare gli shieldini Mi devi dare No mi sono fatto Mi devi dare Velocissimo proprio Lo scar prendilo Però mi servono gli shieldini Sennò moriamo Ah non ce li hai Fa niente Non è un problema Tu mi hai un poco di bene Che non ce li ho Tieni Certo Andiamo ce ne Andiamo ce ne Scappa Scappa Ti scappa la cacca? Oh scappa Ah scappo Scusami Gente Gente uno qua davanti No Era cattivo Era cattivo Dai è stato comunque divertente Mirko Ci vediamo Ciao 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 Ma è finito Ciao Ciao Grazie.